Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video dove illustrerò le tecniche di disegno manga. In questa puntata ci concentreremo sul primo elemento che solitamente si cerca di imparare quando si disegnano i manga, ovvero il volto. Anche se si tratta del primo step, personalmente l'ho sempre considerato molto complesso, soprattutto perché esistono tantissime tipologie di volto e altre tante espressioni. Ma passo dopo passo vedrete che tutto vi sembrerà molto più semplice. Alla fine di questo video avrai le nozioni base che potrai mettere in pratica fin da subito per disegnare il volto del tuo personaggio preferito. Se siamo pronti direi che possiamo cominciare ad esplorare il mondo dei manga. Ma prima vi chiedo un like di supporto e iscriviti al canale per non perderti nessuno dei prossimi video. Sigla! Per cominciare a disegnare il nostro personaggio manga, quindi il nostro volto, iniziamo tracciando un cerchio. Non importa se non saremo troppo precisi, questo cerchio servirà da base per il nostro volto, quindi anche se non sarà precisissimo, non fa niente, non preoccupatevi per questo. Ricordatevi che adesso inizieremo con una piccola bozza, quindi anche se ci saranno tante linee distorte, così non fa niente, va bene così. Successivamente tracciate una linea verticale partendo dalla metà del cerchio e scendendo verso il basso. Il punto di intersezione tra la linea e il cerchio sarà il punto in cui disegneremo il naso del nostro personaggio. Ora dobbiamo delimitare dove finirà il mento, quindi dove finirà il volto del nostro personaggio e quindi ci sarà il mento. Scendendo nella nostra linea dobbiamo scegliere un punto che appunto delimiterà la forma del nostro viso. Io scelgo questo punto. Adesso per disegnare il nostro mento tracciamo una linea orizzontale che parte appunto dal punto di intersezione fra il cerchio e la linea verticale che abbiamo tracciato prima. Ora dobbiamo utilizzare questi due punti per iniziare a disegnare il mento del nostro personaggio. Allora, i menti dei personaggi sono differenti. Il più comune è quello a triangolo, che è quello che disegneremo appunto in questo tutorial. Ci sono però altri tipi di menti. Ci sono quelli rotondi, quelli ovali e quelli squadrati. Pensate per esempio ai personaggi che hanno la mascella squadrata. Se vi interessa approfondire questo argomento, quindi magari vedere i menti visti da diverse tipologie di volto, fatemelo sapere che farò un video dedicato apposta a questo. Ora, in questo video voglio mostrarvi come realizzare la base di un volto manga in posizione frontale, quindi partiamo proprio dalle basi in modo da comprendere bene le proporzioni. Mi rendo conto che inizialmente possa risultare un po' noioso, lo era anche per me all'inizio, credetemi, era veramente noiosissimo fare questa parte perché io volevo sempre disegnare subito il personaggio finale, ma fidatevi che una volta comprese bene le proporzioni cambia veramente tutto e dopo riuscirete a fare disegni molto più belli e a riprendere addirittura vecchi disegni realizzati in precedenza e capirete appunto quali erano gli sbagli che commetturate magari in un disegno precedente, quindi gli errori di proporzione che spesso si fanno. Allora, non perdiamoci un'altra chiacchiere, continuiamo. Allora, per disegnare il mento, quindi partiamo dal punto del nostro cerchio, quindi ritorniamo sul diametro del nostro cerchio e scendiamo. Ricordiamoci che scendendo dobbiamo immaginare di arrivare verso il punto che abbiamo creato prima, questo qui è il punto in cui sarà posizionato il nostro mento. Naturalmente noi non dobbiamo scendere in questo modo e non dobbiamo neanche fare una cosa di questo tipo perché ovviamente non è realistico. Un altro errore da non commettere è non fare il mento a punta perché comunque tutti i menti hanno comunque una curva, anche se molto molto lieve, ma ce l'hanno. Per disegnare il mento, quindi, cosa facciamo? Iniziamo inizialmente scendendo leggermente di lato. Non appena abbiamo superato questa linea orizzontale che ci siamo disegnati prima come base di riferimento, cominciamo a spostarci ancora di più verso il centro del nostro volto e quando arriviamo verso la fine cerchiamo di fare una piccola curva. Procediamo facendo la stessa cosa dall'altra parte. Se vogliamo aiutarci con le proporzioni, possiamo, se stiamo lavorando in digitale, lavorare con l'immagine speculare. Se invece stiamo lavorando con un foglio di carta e una penna, posizioniamo uno specchio nella metà del viso, lo mettiamo in posizione verticale in modo che l'immagine venga praticamente riprodotta in modo speculare dall'altra parte. Questo può essere utile perché spesso l'occhio tende a correggere quelle imperfezioni che non notiamo durante un disegno, mentre invertendolo ecco che questa imperfezione balza subito all'occhio. Quindi quando mi avvicino alla punta, diciamo, del nostro mento, faccio un piccolo arco per arrotondarla leggermente. Ok, non importa se il volto non è perfettamente simmetrico, anzi è meglio se non è perfettamente simmetrico, perché anche il volto umano non ha tutta questa simmetria. Quindi un errore da non fare assolutamente è quello di copiare il lato destro nel lato sinistro. Non fatelo mai, perché altrimenti un disegno risulterebbe troppo perfetto, troppo preciso e si perde quella naturalezza che dovrebbe avere appunto un volto. Perfetto, una volta fatta questa parte, dobbiamo passare alla bocca. Allora la bocca viene disegnata, nel nostro caso la faremo chiusa, esattamente a metà fra la posizione del naso e il nostro mento. Quindi la dovremo disegnare in questo punto. In questo caso faremo un piccolo sorriso, diciamo, e quindi faremo una bocca molto molto semplice in questo modo. Ora passiamo al collo. Dato che stiamo disegnando un volto femminile, sappiamo che il collo è molto sottile. Quindi faremo semplicemente una linea che va verso il basso e poi ci saranno naturalmente le spalle che verranno definite poi in faglia di lavorazione del personaggio. Adesso io qua abbozzo semplicemente la loro posizione. Ok, adesso passiamo agli occhi. Allora, per disegnare gli occhi dovremo aiutarci con due o tre linee, a seconda di come siamo abituati. Io vi mostro la tecnica che utilizzo io. Ci sono diversi modi per disegnare gli occhi, ma il senso delle proporzioni è comunque quello. La prima linea che dobbiamo realizzare è questa. Viene posizionata esattamente alla metà del nostro cerchio e tracciamo una linea in orizzontale. La seconda linea che dobbiamo disegnare è appena sopra la linea che abbiamo utilizzato per delimitare la posizione del naso, e quindi questa. Questa linea servirà per la base del nostro occhio. Ok, adesso salendo leggermente disegniamo un'altra linea. Più o meno la distanza che andremo a tracciare tra questa linea e questa è la stessa tra la linea del naso e quella superiore. Questa seconda linea verrà utilizzata per delimitare più o meno il centro del nostro occhio. Ora, saliamo ancora più o meno con la stessa distanza delle linee precedenti e tracciamo un'altra linea ancora. Ok, io la chiamerò altezza perché questa linea la utilizzerò per delimitare la parte iniziale del mio volto, quindi la parte delle ciglia. Per disegnare l'occhio, allora, cominciamo innanzitutto dall'occhio destro. La distanza tra il naso e l'inizio del nostro occhio è più o meno questa e ovviamente anche dalla parte opposta lo tracciamo. Ricordiamoci sempre che la parte centrale, quindi la distanza tra un occhio e l'altro, corrisponde più o meno alla grandezza degli occhi stessi. Quindi se qua disegniamo un occhio largo in questo modo, ecco che qui al centro ci sarà lo spazio che delimiterà l'occhio destro dall'occhio sinistro. Questo punto, quindi questo spazio, sarà largo esattamente come la larghezza dei nostri occhi. Questo qui è un punto di riferimento molto utile che vi può servire per disegnare degli occhi proporzionati. Quindi se per esempio disegniamo un occhio largo in questo modo, ecco che al centro ne disegniamo un altro e quindi abbiamo poi direttamente la proporzione per disegnare l'occhio sinistro e così via. Iniziamo quindi col disegnare l'occhio destro. Quindi abbiamo scelto le nostre linee verticali. Adesso per disegnare il nostro occhio cominciamo con la parte superiore. Quindi cominciamo a disegnare l'arco del nostro occhio fino ad arrivare alla nostra altezza che abbiamo delimitato prima. Una volta raggiunta questa altezza scendiamo ok e poi chiudiamo ritornando più o meno verso il centro mentre la parte sotto la utilizzeremo poi per chiudere l'occhio. ok una volta fatta questa operazione si possono definire alcuni dettagli dell'occhio quindi magari si può fare la parte superiore un po' più spessa si possono aggiungere le sopracciglia se lo desideriamo dipende un pochino anche dal nostro stile e quindi poi diciamo si vanno a definire tutti quei dettagli dell'occhio che servono per caratterizzare il nostro personaggio. io in questo caso sto disegnando una ragazza un adolescente quindi voglio fare degli occhi non troppo grandi ma neanche troppo piccoli quindi diciamo una via di mezzo. ok una volta fatta questa parte passiamo alla parte interna dell'occhio quindi disegniamo il nostro cerchio quindi partiamo dalla base dalla parte superiore del nostro occhio e cominciamo a tracciare un cerchio allora il cerchio il cerchio non deve prendere tutto l'occhio perché altrimenti risulterebbe innaturale il cerchio deve prendere quasi poco più dei tre quarti dell'occhio quindi se io comincio con il cerchio in questo punto non finirà qui il cerchio ma finirà più o meno in questo punto se la ragazza invece se dovessimo fare la ragazza che guarda a destra è chiaro che il nostro cerchio si sposterà sulla destra quindi comincerà da questa parte e finirà da questa parte tutto dipende da dove volete indirizzare lo sguardo del vostro personaggio nel nostro caso lo facciamo che guarda in avanti quindi solitamente quando si guarda in avanti almeno nell'illustrazione manga la parte rotonda dell'occhio è posizionata più o meno in questo modo quindi va verso il naso e poi copre la restante parte dell'occhio quindi facciamo proprio un cerchio in modo che stia perfettamente fra la parte superiore e la parte inferiore del nostro occhio una volta fatto questo delineiamo la base della nostra palpebra perché comunque gli occhi hanno appunto la base quella linea che divide la palpebra fissa dalla palpebra mobile la linea superiore quindi questa invece ci servirà per disegnare il sopracciglio allora il sopracciglio parte da questo punto quindi noi utilizziamo la linea che abbiamo usato per disegnare il nostro occhio ed ecco che rientriamo leggermente all'interno e cominciamo a tracciare il nostro sopracciglio anche per le sopracciglia ci sono diverse forme che si possono realizzare però il punto di partenza è sempre questo poi se vogliamo realizzare un personaggio un po' più arrabbiato possiamo fare il sopracciglio che va dal basso verso l'alto oppure un personaggio perplesso o triste dipende ma comunque la larghezza è sempre questa ok adesso io lo ridisegno un attimo perché voglio realizzare sì un personaggio che sta guardando però non troppo felice ecco normale quindi lo faccio leggermente più in basso adesso disegno l'occhio dall'altra parte utilizzo anche la funzione inversione quindi lo metto a specchio per controllare che l'occhio sia venuto bene e lo disegno dall'altra parte quindi procedo sempre nello stesso modo vado verso la linea dell'altezza una volta che ho raggiunto questa linea scendo verso il basso e proseguo chiudendo l'occhio nel momento in cui scendo verso il basso mi raccomando fate attenzione a non toccare il bordo del nostro volto perché comunque l'occhio si trova dentro il nostro cerchio dentro il nostro volto quindi non fate degli occhi troppo larghi in questo modo ma neanche degli occhi troppo piccoli fate una via di mezzo poi ovviamente dipende dal tipo di personaggio che volete realizzare se stiamo realizzando uno shonen è chiaro che gli occhi saranno più piccoli però comunque non dovranno essere troppo piccoli altrimenti ci avviciniamo allo stile realistico ok allora io termino di disegnare l'occhio quindi faccio poi le mie sopracciglia disegno la linea della mia palpebra quindi che delimita la distanza la separazione tra la palpebra fisse e quella mobile faccio la parte inferiore dell'occhio e anche qui traccio il mio cerchio quindi disegno il mio cerchio all'interno dell'occhio che non deve coprire tutto l'occhio come abbiamo visto prima ok se ho bisogno di aiutarmi praticamente con le proporzioni inverto per capire se sto lavorando con le proporzioni giuste e una volta fatto l'occhio termino con il sopracciglio quindi anche qua c'è il suo procedimento di prima e tracciamo il nostro sopracciglio bene una volta disegnati gli occhi passiamo alle orecchie allora le orecchie vanno disegnate allora in realtà dipende dipende dall'età del vostro personaggio però di base le orecchie vengono disegnate a partire da questo punto se voi ci fate caso nel disegno anzi non nel disegno nel nostro volto nel nostro viso se noi ci tocchiamo il lato dell'occhio e andiamo con il viso verso la parte laterale noteremo che il lato dell'occhio corrisponde più o meno con l'inizio delle nostre orecchie quindi questa è l'altezza delle nostre orecchie la base invece quindi il punto in cui si troverà il lobo del nostro orecchio sarà più o meno questo prima che cominci la curva del mento ed ecco che utilizzando queste due curve di riferimento disegniamo le nostre orecchie che potranno essere anche un pochino più piccole quindi io sto disegnando una ragazza una ragazza giovane una ragazzina la sto facendo un po' pucciosa diciamo e quindi voglio fare delle orecchie un po' più piccole la mia base sarà sempre la stessa però non le farò troppo allungate le farò terminare in questi punti ok facciamo due linee per dare appunto la profondità alle orecchie ok e le orecchie sono fatte adesso da questa base dovremo disegnare i capelli anche per i capelli poi ci sarà un discorso a parte ma per il momento voglio farvi capire appunto dove questi punti vengono appunto posizionati allora i capelli quando vengono disegnati appunto i capelli sicuramente non dovranno partire dall'attaccatura della testa anche se comunque questo richiede un discorso a parte ma ci tengo a specificarlo fin da subito quando si disegnano i capelli bisogna immaginare una linea immaginaria intorno alla testa come una corona di questo tipo poi si delinea anche l'altezza l'attaccatura dei nostri capelli l'attaccatura dei capelli più o meno si trova a metà fra la linea che abbiamo disegnato prima che è questa che era la linea se vi ricordate che delimitava proprio il centro la metà del cerchio e la parte superiore della testa in questo punto c'è l'attaccatura dei capelli quindi la parte dalla quale comincia il disegno delle nostre ciocche utilizzando questo punto come riferimento ecco che andiamo a disegnare i capelli del nostro personaggio tenendo sempre come riferimento questa croce che può anche essere spostata leggermente più su a seconda se vogliamo disegnare un personaggio con la fronte alta o la fronte bassa l'importante è non andare troppo sopra quindi questo punto non va bene e non va bene neanche scendere troppo quindi neanche questo punto va bene le distanze giuste generalmente sono queste quindi in questo quadrante diciamo si possono delimitare le basi dalle quali partire diciamo per disegnare i nostri capelli quindi adesso disegnerò a livello approssimativo dei capelli farò delle ciocche allora io pensavo di realizzare una ragazza con i capelli corti e quindi farò le mie ciocche in modo comunque da realizzare una ragazza con i capelli corti tengo sempre come riferimento il centro della testa e vado a disegnare i capelli mi aiuto con lo specchio o in questo caso invertendo l'immagine per disegnare il disegno dall'altra parte e in pratica sono andata a disegnare un'immagine approssimativa diciamo dei capelli ok una volta che avremo definito diciamo il nostro personaggio possiamo procedere con la line art nella fase digitale corrisponde alla realizzazione delle linee precise quindi un bel nero pieno delle linee belle precise e pulite nella fase di disegno naturale invece con una matita si passa con la gomma sulla matita per attenuare il nostro disegno e con una penna si cominciano a disegnare i tratti più precisi andranno a delimitare la parte finale del disegno io adesso siccome sto lavorando in digitale ridurrò l'opacità del mio disegno e creerò un nuovo livello che verrà utilizzato per l'inchiostrazione ok ragazzi il primo video termina qui nei prossimi video vedremo come costruire un volto utilizzando i blocchi e impareremo a disegnare il volto dalle diverse angolazioni e anche come modificare l'età dei personaggi io spero che questo video vi sia piaciuto e se volete restare aggiornati per non perdere nessuno dei prossimi video cliccate sulla campanellina qui sotto noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao